A Davigliana sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova sede della succursale dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri Galileo Galilei. Costerà poco meno di 6 milioni di euro, di cui 4 stanziati dall'Unione Europea con i fondi della Missione 2 del PNRR. I quasi 2 milioni di euro necessari al completamento dell'opera sono invece stati stanziati dalla città metropolitana di Torino. Il nuovo edificio sorgerà accanto a quello attuale, frequentato da circa 400 allievi in 20 aule. La demolizione dell'edificio attuale avverrà a conclusione dell'intervento principale, consentendo agli studenti di proseguire la didattica. Il nuovo edificio sorgerà nella parte sud del complesso scolastico, fra l'attuale palestra e il confine verso il piazzale Che Guevara. Avrà due piani fuoriterra, una pianta poligonale e un patio centrale. La superficie coperta sarà di 1523 metri quadrati, la superficie calpestabile di 2300. Ogni aula avrà una superficie di 49 metri quadrati e potrà accogliere sino a 22 studenti. Professor Pent, quali vantaggi può portare un edificio ovviamente innovativo, perché il progetto non poteva che essere ecosostenibile? Direi che faccio un parallelo con può essere un hardware di un computer. Quindi abbiamo un nuovo hardware, da un nuovo hardware possiamo anche utilizzare dei nuovi software, da questo punto di vista, e quindi migliorare sicuramente l'offerta formativa di una scuola che è presente sul territorio da più di 50 anni e che quindi aveva la necessità anche di migliorare l'aspetto anche edilizio, visto che la nostra succursale ormai da qualche anno aveva già problemi. Quindi siamo chiaramente molto soddisfatti della scelta da parte della città metropolitana di aver individuato la nostra scuola come beneficiaria dei fondi PNRR. Quindi ringrazio chiaramente tutti i responsabili a nome innanzitutto della nostra dirigente, la professoressa Cardinale, poi dei nostri colleghi e dei nostri studenti. C'è attesa da parte dei vostri studenti, anche se quelli di quarta e quinta non saranno poi ovviamente gli utenti di questo nuovo edificio? Sicuramente sì, c'è un'attesa direi spalmodica quasi di poter utilizzare questo nuovo edificio e devo dire che anche in questi ultimi tre anni che stanno terminando la riqualificazione della sede del nostro istituto, sicuramente fra un paio d'anni avremo finalmente una scuola moderna e se vogliamo innovativa anche da questo punto di vista. Con le rappresentanti di istituto chiediamo, Alessia ne avete parlato tra di voi studenti e studentesse di quello che può essere offerto da un edificio così nuovo, così innovativo. Sì, abbiamo alte aspettative dato che le nostre scuole sono vecchie ormai e non vediamo l'ora di vederlo costruito. Nella tua classe ne avete parlato di questa opportunità nuova, di avere una scuola nuova finalmente? Sì, ne abbiamo parlato e siamo molto contenti, soprattutto perché ci sono molte lamentele da parte degli studenti per la vecchia struttura e quindi sono tutti contenti che verrà costruita una nuova e speriamo sia migliore e sicuramente lo sarà e quindi siamo contenti. Avrete più voglia di venire a scuola allora la mattina? Sicuramente sì.